Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente di mettere un like e di iscrivervi al mio canale nel caso in cui il video vi sia piaciuto. Andiamo a vedere insieme il nuovo personaggio, Hell Lady. Vediamo la versione di fuoco. Ovviamente in modalità evoluta abbiamo il Basic Attack, poi abbiamo la prima skill che applica Crit Rate Down nel caso in cui il bersaglio è bruciato e in più si recupera gli HP in base al danno. Questa spell invece farà tre colpi, il primo toglie lo shield e applica Burn e il Burn aumenterà in base a quanti target avrà colpito. Questo ovviamente si attiva nel caso in cui il nostro mostro è evoluto. Abbiamo un bet, la versione d'acqua, abbiamo il Basic Attack, la prima spell che prevede due colpi dove il primo applicherà un aumento della durata del silenzio. Il secondo colpo avrà la possibilità di applicare Attack Down con una certa possibilità. Quest'attacco ignora la possibilità di non morte del bersaglio, quindi ci sono alcuni mostri o personaggi che potrebbero non morire e invece lei lo ignora. E in più il target che è stato sconfitto non ha la possibilità di rianimarsi, quindi è molto utile soprattutto in PvP. Abbiamo poi la seconda spell dove ogni colpo ha una possibilità di applicare il silence e in più recupererà gli HP in base al suo attacco. Ovviamente tutto questo nel caso in cui abbiamo la versione evoluta del mostro. Poi abbiamo la versione verde, abbiamo ovviamente l'autoattacco, poi abbiamo la prima spell dove appunto verrà colpito due volte e in più applicherà Death Down e Oblivion per ogni colpo con una certa possibilità, quindi non al 100%. La seconda spell invece applicherà 3 colpi e farà danno che penetra la difesa nel caso in cui il bersaglio ha 50% o meno di vita. In più ogni colpo ha una certa percentuale di stilare, cioè di prendere gli effetti di beneficio e applicare anche lo stun. La possibilità di stun aumenta in base agli HP dell'avversario, quindi meno HPA più possibilità di stunnare. Tutto questo è sempre applicabile nel caso in cui abbiamo il nostro mostro evoluto. Nel caso invece del ultimate abbiamo la possibilità invece di stilare un beneficial effect diventano due, quindi ancora meglio. Poi abbiamo la versione light, abbiamo il basic attack, abbiamo la prima spell dove appunto attaccherà due volte e applicherà attack down per ogni colpo nel caso in cui il bersaglio ha sanguinamento, bleed. In più farà un danno fisso per ogni colpo nel caso in cui la nostra Hell Lady ha invincibility. La seconda spell invece attaccherà ad area comunque con tre colpi dove il primo colpo rimuoverà immunity e applicherà il sanguinamento. In più aumenterà il sanguinamento in base al numero di bersagli colpiti. Ok abbiamo la terza spell dove lei si applicherà attack up e accuracy up a se stessa nel caso in cui lei riceve danno. In più insomma il numero di attack up e accuracy up avranno la stessa durata di invincibility. Questo ha un cooldown di 40 secondi scusate ed è effettivamente una passiva. Quindi ogni volta che lei riceve questo danno lei si applica da sola questi buff. Abbiamo la ultimate dove lei colpirà tre volte. Ok abbiamo la ultimate che effettivamente è il potenziamento della seconda skill dove appunto attaccherà tre volte, rimuoverà immunity e applicherà bleed per ogni colpo. In più applicherà attack down se il target ha bleed. Il primo colpo aumenta il bleed level per il numero di target colpiti quindi ha un potenziamento della seconda skill. Ecco la versione darkness, cracka. Il primo è un autoattacco però ci tengo a farvi notare che lei recupera gli HP in base al danno fatto. Questo è solo di autoattacchi quindi la cosa la rende molto molto potente. Soprattutto in PvE può essere molto utile. Abbiamo la prima skill dove farà danni in base ai massimi HP del nemico ad area due volte. E ogni colpo ha la possibilità di applicare death down. Quindi come vi ho già detto in altri tutorial, death down è uno dei bonus più utilizzati soprattutto nel PvE e io quindi questo personaggio lo trovo davvero molto forte. Abbiamo la seconda spell invece dove attaccherà tre volte e recupererà i suoi HP in base al danno effettuato. E ogni colpo ha una certa possibilità di applicare attack down al target nel caso in cui esso abbia death down. Quindi se ha applicato la prima spell e poi usiamo la seconda, molto probabilmente applicherà anche attack down. Abbiamo poi la terza spell. Ha un cooldown di 18 secondi. Lei attiva una specie di copia nel caso in cui uno dei nostri team member è stato sconfitto. Quindi si crea un suo clone. In più abbiamo la ultimate che è una sorta di potenziamento della seconda e terza spell. Dove attaccherà tre volte e si recupererà vita in base al danno effettuato. In più questa volta applicherà death down ma nel caso in cui il target ha death down gli applicherà anche attack down. Questa volta ha con tre possibilità quindi potrebbe avere più debuff il boss o il mob. In più evocherà anche un clone di livello 1 per un certo periodo di tempo. In questo caso io onestamente vi consiglio di droppare la light nel caso in cui siete fortunati. Però non l'ho vista effettivamente utilizzata in nessun dungeon per adesso. Può essere sicuramente buona anche contro una raga in quanto applica molti debuff. Ed è in grado appunto di evadere scudi e quant'altro. Insomma parlo anche degli altri elementi. Però per adesso vi dico di non focussarvi. Finché non verrà applicata almeno da qualche altro giocatore. Per essere sicuri del suo utilizzo. Io con questo vi ringrazio della visione e vi saluto. Io con questo vi ringrazio della visione e vi ringrazio della visione e vi ringrazio della visione.